I protagonisti del mondo del teatro, del cinema, del giornalismo e della musica incontreranno i cittadini di 5 comuni campani in occasione del premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito. Dal 19 al 26 di ottobre infatti si svolgerà il festival di eventi che per 7 giorni accenderà i riflettori sui comuni di Piano e Meta di Sorrento, Torre del Greco, Palma Campania e San Giorgio La Molara. L'evento è stato presentato in regione dall'assessore al turismo Pasquale Sommese. Questo premio della Penisola Sorrentina, il 18esimo premio, coniuga cultura, spettacolo in un territorio da turismo maturo e colgo l'occasione anche per ribadire che deve avere il compito di trainare anche le aree, i vari turismi meno conosciuti ma altrettanto da valorizzare. Siamo in presenza di un territorio che ha avuto un incremento del 20% circa di turisti in quest'anno e deve essere, ripeto, da traino oggi che indossa l'abito di adulto, di un turismo adulto. Ospite d'onore della 18esima edizione sarà Cristian De Sica che riceverà un premio alla carriera nella giornata conclusiva del premio Arturo Esposito, un festival che coinvolge l'intero territorio campano come spiega il direttore dell'evento Mario Esposito. Un'edizione che entra nella memoria collettiva, è un premio che 18 anni fa ha fondato mio padre Arturo Esposito e qui è dedicato e che ora vuole costituire un attrattore turistico, un fondale magico per ricordare che la nostra terra è felice e può attirare. Piano di Sorrento, in particolar modo, insieme con Ischia, ospiterà le serate più importanti della rassegna. Ecco quindi il processo di un passaggio da una memoria affettiva personale a una memoria collettiva. Gli eventi sono questi, quelli che in qualche modo cambiano le storie e le geografie dei luoghi.